Saluto tutti quanti, questa è una delle tante voci che è arrivata dalla Bar Polcevera, da Genova. Oggi siamo comunque molto contenti perché siamo arrivati moltissimi anche da lì. Un movimento che è nuovo e che sta crescendo tanto, sta crescendo tanto nella città, sta crescendo tanto nella vallata. Un ringraziamento va a tutti, va in tutto al Basso Piemonte perché è un'unità che è fondamentale per portare avanti la nostra lotta. Non è una lotta diversa, non è una lotta diversa quella che c'è dal Basso Piemonte e quella che c'è in Val Polcevera e in tutto il genovesato cosiddetto. Ritengo che continuando così potremo raggiungere degli ottimi risultati, i risultati dei blocchi degli espropri a luglio, i risultati delle prime mobilitazioni con l'apertura del cantiere, questa manifestazione e tutte le altre mobilitazioni che ci porteranno a bloccare nuovamente gli espropri prima della fine dell'anno. Grazie.